Ciao a tutti ragazzi, benvenuto a un nuovo video Oggi siamo su Path of Titans Siamo un dinosauro che mi avete consigliato Cioè il Dinosuchus E quest'oggi saremo qui a fare un po' di battaglie e a sopravvivere Quindi qui sono già in un branco e siamo su una spiaggia E' una sponda del grande lago a Baia dei Cadaveri Quindi vi faccio vedere un attimino sulla mappa Siamo qui Poi voglio un attimino dire pure il mio username di Alderon Games Che è albi3097 E niente, quindi Direi di andare qui Non voglio attaccarli tipo Facendo Tipo un aguato o nient'altro Cioè voglio proprio attaccarli Uh Uh, qualcuno si è avvicinato proprio all'acqua a fare Vabbè cacchio Ha schivato Lo schifosetto Avvicinati se hai il coraggio Cioè abbiamo tre attacchi per ora Uh, abbiamo un amico qui Dai, vieni qui su con me Non vuoi combattere? Ti paura di non soccorre lì Gisanti Ciao ciccio Non volete combattere? Avete paura? Schifusetti Eh Se non ti va fuori campare lì Ricordatelo Guardatelo Vedete di stare qui Sott'acqua Insieme ai nostri altri amici Oh, sono per prendere delle ossa Oh, sono per prendere delle ossa Ok O risultato è lì ossa Oh, sono per prendere delle ossa Mi faccio Vieni compare Ritiriamocci in acqua Come che arrivino a bere Bene, mi sto seguendo Vieni Fuffi Fuffi l'alligatore Vieni Andate a dormire Sì Oh, si ha spawnato Sì a casa Ha fatto buon break Ok è quasi morto Un bel bologno Dai abbiamo quasi ucciso Dai mangiamolo È stato molto facile Dai Con il nostro amico Sede il gruppo nostro Vieni che compare Ammazziamo su giga Yeeey È morto Cioè Sei il giga più facile Della mia vita Cosa ho un due rex Non li sfido Ne prendo un pezzo di carne Ne prendiamo un trofeo Che nabbi c'è Gli ho distrutti Ok è andato molto bene Direi Però il giga C'è da dirlo Che mi ha fatto Un po' di danno Me l'ha fatto Ok No Non lo attaccare Lui è il nostro amico Forse non lo ammazzi Non lo ammazzi Sfite Ah beh Io direi Da pure Da fare Di uccidere Ok Sfidiamoli Sfidiamoli Mentre li cieli Stiamo così a caso Sembra che stiamo tutti scappando da noi Il suco Mimo Non so cosa stanno facendo lì Che cacchio è laggiù Prima Sugli altri Sugli altri server Che su Gli altri dinosauri Eravamo noi che abbiamo paura Ma ora sono gli altri che hanno paura di noi Sfidiamoli Qual-se Sfidiamoli Ma facendo E niente grazie di aver guardato questo video ci vediamo al prossimo episodio